Il rischio di dover restituire circa 780 mila euro, somme risalenti a programmazioni regionali degli scorsi anni, sembra poter rientrare. Nelle ultime settimane però è iniziata un'interlocuzione tra i tecnici del comune e quelli della regione. Da Palermo ci sono state richieste di verifica su possibili buchi nella rendicontazione di un finanziamento che in passato è stato utilizzato per interventi nella riserva orientata a viviere, soldi concessi dall'Unione Europea e poi trasferiti al comune che rientrava tra quelli finanziati. Pare che l'ipotesi di un'eventuale restituzione dell'intera somma possa essere stoppata. Negli ultimi giorni i funzionali del municipio hanno risposto alle richieste dei tecnici regionali che avrebbero indicato i passaggi da seguire per completare la rendicontazione delle somme spese superando i dubbi. A giugno la Corte Europea ha imposto alla regione Sicilia una decurtazione di fondi per 380 milioni di euro generata da caratteristiche nei controlli e nella rendicontazione di progetti che vennero finanziati in passato. Anche il responsabile della riserva a viviere Emilio Giudice conferma di essere stato informato. Ammette però che quei fondi sono stati spesi per intero in progetti che hanno riguardato la riserva. Tutto è stato fatto dice in assoluta regolarità. Da quello che emerge pare che i dubbi siano iniziati a montare a causa della mancanza di documenti su alcune spese sostenute. Ci sarebbe stata una diversa gestione delle piattaforme telematiche che vengono usate per rendicontare tutte le spese nei progetti finanziati con i fondi dell'Unione Europea. Giudice ne ha parlato con l'assessore comunale a Ramo e con i tecnici del comune che starebbero comunque provvedendo a rispondere alle richieste della regione. Inizialmente dal comune non erano arrivati riscontri alle missive della regione appunto. Vanno recuperati i necessari atti adempimenti che dovrebbero chiudere il caso. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.